Sono tre punti pesantissimi quelli che il Crema 1908 strappa un mezzolara rognosissimo da tradizione che non molla un centimetro. Decide un rigore di Recino ma soprattutto la ritrovata, compattezza difensiva dai nero-bianchi, fortunati in un episodio e soprattutto tenaci e vogliosi di non concedere nulla. Recino scarica dietro su Melchiori che calcia alto dal limite, poi Recino diventa invece terminale del suggerimento di Madiotto ma trova un muro. Stessa sorte per lo stesso Madiotto che si era liberato bene al tiro appena dentro l'area di rigore. Il Crema insiste ma su questa mischia da corner l'arbitro ferma tutto per carica a dubbia sul portiere. Il gol comunque è maturo e allo scadere del primo tempo se lo procura Recino che ingaggia un duello con Roselli e si fa stendere calciando poi in rete l'1-0 su rigore. Ripresa in avvio è ancora Crema, ancora con Recino che di testa manca di pochissimo il gol della sicurezza. Clamorosa è anche la palla gol per Melechi che si incune in area su assist del solito Recino ma trova il miracolo del portiere. Così c'è da soffrire fino alla fine il Crema ringrazia Bertani che tocca un pallone forse comunque destinato al gol su diagonale di Bocchialini e fa annullare il pareggio al compagno. Nel rush finale l'Ovaglio prova a spezzare il ritmo calciando a lato di poco mentre Vavassori rischia qualcosa su d'este ma per l'arbitro l'intervento è regolare. L'ultimo vero brivido è sullo sparo di Landi che finisce fuori di poco poi il Crema 1908 non concede più nulla e sorride con questi tre punti si è molto più tranquilli.